Benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi esploreremo le stelle e i pianeti per scoprire cosa riservano per voi. Siate pronti a scoprire le previsioni dell'oroscopo per il vostro segno zodiacale e a farvi ispirare dalle influenze celesti. Preparatevi per un viaggio nell'universo dei segni zodiacali e delle stelle, mentre vi sveliamo ciò che il destino ha in serbo per voi. Segno a liete. Una giornata vincente e stimolante vi attende, segnando la conclusione ideale di una settimana intensa. Vi sentirete favoriti negli incontri e nelle sfide, soprattutto perché una di queste avrà un impatto significativo, potenzialmente decisivo in una direzione o nell'altra. La vostra propensione a superare i limiti troverà ampio spazio per esprimersi in modo straordinario. Date uno sguardo anche alle anticipazioni per i segni del sagittario, capricorno, acquario e pesci. Chi si trova in una relazione di lunga data avrà il privilegio di riscoprire le gioie della vita attraverso esperienze condivise nel corso del tempo. I sentimenti e l'atmosfera pacifica contribuiranno ad arricchire il lato affettivo di questa giornata di metà dicembre, creando una serenità duratura nella relazione. Per coloro che sono single, l'assenza di influenze astrologiche negative rende la giornata particolarmente stimolante. È importante riconoscere e apprezzare questo periodo, poiché non sempre si ha l'opportunità di godere di momenti così positivi. Segno Toro Ehi, Toro, sembra che ci sia qualche altalena in arrivo per te. Ora non è il momento di scommettere tutto suo amore o finanze, ci potrebbero essere alcune sorprese che ti faranno storcere il naso. Per quanto riguarda il lavoro, affronta il tuo collega con calma e vai avanti. Per quanto riguarda la fortuna, potrebbe non essere dalla tua parte per il momento, ma non perdere la speranza. Riguardo ai livelli energetici, speriamo che tu abbia avuto una buona tazza di caffè stamattina. Questo è il momento di aprirsi emotivamente, ascoltare i messaggi del cuore e coltivare relazioni significative. Questa fine dell'anno premia sia le nuove connessioni che il recupero di passioni passate. Non reprimete più i vostri sentimenti, beh è il momento di esprimere apertamente ciò che provate, trovando le modalità giuste senza essere troppo impulsivi. Le stelle saranno dalla vostra parte. Oggi potrebbe essere una giornata complessa a causa delle influenze astrologiche sfavorevoli di Venere in opposizione a Giove e Urano nel vostro settore. Potrebbero emergere sfide amorose legate a complicazioni sentimentali, causando qualche disagio. Se possibile, evitate di attribuire sempre la colpa al partner. Per coloro che sono single, potrebbe essere utile dedicare del tempo per apprendere tecniche di gestione dello stress. Segno gemelli. Un breve momento di riflessione è consigliato per valutare la solidità delle vostre relazioni. È cruciale capire chi è degno di fiducia e chi no, cercando chiarezza in ogni aspetto. Dedicate più attenzione a voi stessi, concedendovi momenti di relax, divertimento e qualche coccola. Evitate di trascurare la vostra forma fisica per evitare inconvenienti che potrebbero interferire con il vostro benessere in questa fase finale dell'anno. Sarà una giornata pervasa da un umore romantico, con la possibilità di immergersi completamente nell'atmosfera dell'amore. Approfittate di questo momento straordinario per dedicare maggiore attenzione alla persona cara, condividendo momenti intimi e appassionati. Se siete single, potreste notare una scintilla inconfondibile negli occhi di qualcuno che attira la vostra attenzione. Le questioni sentimentali diventeranno intense a fine giornata, e potreste cogliere l'opportunità di approfondire una possibile storia d'amore. Nel frattempo, i vostri successi professionali non passeranno inosservati, potreste ricevere elogi e riconoscimenti dai colleghi per il vostro contributo significativo all'azienda. Segno cancro. Nelle prossime 24 ore, potreste sentirvi insicuri e afflitti da dubbi riguardo a una relazione o alle interazioni sociali. Le stelle potrebbero non essere del tutto favorevoli in questo momento, ma resistete all'impulso di concludere una relazione importante solo a causa di un momento difficile. Non riversate il pessimismo sul lavoro, altrimenti rischiate di vanificare gli sforzi fatti finora. Mantenete la calma e la prospettiva positiva. Le onde romantiche potrebbero non travolgervi completamente in amore, ma avrete comunque una piccola dose di gioia e soddisfazione nella vostra relazione di coppia. Questo potrebbe essere un segnale positivo per compiere piccoli passi avanti nel rafforzare il legame con il partner, specialmente se ultimamente ha mostrato segni di indebolimento. Per i single nati sotto questo segno, si prevedono incontri avvincenti e appassionanti, suscitando un desiderio di rischiare e aprirsi a nuove esperienze amorose. Mantenendo la calma, la determinazione sul lavoro vi aiuterà a superare ostacoli, se non tutti, almeno buona parte di essi. Credere di più nelle vostre possibilità sarà la chiave per ottenere la vittoria, anche se non sarà un compito facile. Segno Leone Negli ultimi tempi, sono state aperte nuove strade per voi, specialmente nell'ultimo mese, nuovi progetti, programmi innovativi e iniziative che forse neanche potevate immaginare fino a poco tempo fa sono decollati. La maggior parte di queste iniziative promette soddisfazioni straordinarie, mentre il resto rappresenta una scommessa intrigante, ma non eccessivamente rischiosa. Tutto è molto positivo, ma non dimenticate l'amore, perché a partire dal prossimo anno vi attendono stelle incredibili e anche in quel settore, sorprese significative potrebbero emergere anche nel vostro mondo sentimentale. Per coloro che sono single, potrebbe manifestarsi un'energia negativa proveniente da persone poco simpatiche, causando disagio durante la giornata. Allontanatevi da fonti di negatività e utilizzate la vostra energia positiva per ravvivare la fiamma interiore, concentrando l'attenzione sulle persone che contano di più per voi. Segno Vergine L'oroscopo di oggi, 17 dicembre, promette un domenica caratterizzato da un buon equilibrio emotivo. Per le relazioni, si prospettano miglioramenti che avranno un impatto positivo, specialmente per le coppie che hanno superato delle difficoltà. La ritrovata serenità con il partner offre la possibilità di trasformare la storia d'amore in un legame più solido e duraturo nel tempo. I single potrebbero incontrare una persona interessante, capace di catturare il cuore inaspettatamente, portando emozioni piacevoli e accelerando il battito cardiaco. Fate attenzione a possibili tensioni in famiglia e nelle relazioni amorose, in generale, le discussioni non nasceranno necessariamente per vostra colpa, ma sarà importante essere abili nel non farvi coinvolgere o, se inevitabile, mantenere la calma e toni pacati. L'importante è chiarire le situazioni, evitando di aggiungere ulteriore combustibile al fuoco. In questo periodo, alcuni potrebbero sperimentare un disagio interiore derivante da questioni pratiche o da un progetto che stenta a prendere il volo. Evitate di sfogare il nervosismo sull'amore, a meno che non abbiate un partner comprensivo che possa aiutarvi a capire come gestire la situazione. Segno bilancia. Ciao, bilancia. In questo periodo, potresti sperimentare alcune oscillazioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sembra che ci siano novità in arrivo, anche se potrebbero non andare esattamente come desideri. Sul fronte lavorativo, le cose vanno bene, ma è importante mantenere alta la guardia e non abbassare troppo la soglia di attenzione. La tua energia è in costante fluttuazione, quindi cerca di gestirla nel modo migliore possibile. Dal punto di vista finanziario, al momento non ci sono grandi alti o bassi, è un periodo piuttosto neutro. Le previsioni zodiacali per oggi prevedono una giornata positiva, in sintonia con la fase conclusiva di questa settimana. In amore, vivrete momenti speciali con romantiche sorprese durante questa splendida giornata di metà dicembre. Siate aperti a lasciarvi andare e godete appieno dell'attimo, magari organizzando una cena romantica o una passeggiata sotto le stelle con il vostro partner. Approfittate di ogni opportunità di felicità, poiché ogni momento perso è irrecuperabile. I single potrebbero sentirsi motivati a cercare una persona speciale che possa renderli felici. Nel lavoro, si prevedono sostegni importanti e successi significativi in vari settori. Siate pronti a cogliere queste opportunità e a mostrare le vostre abilità. Segno Scorpione L'oroscopo per la giornata di oggi rivela un periodo eccellente in cui vedrete tutto sotto una luce diversa. L'astrologia suggerisce di mettere da parte l'irrascibilità e concentrarsi sugli obiettivi. In amore, potrebbero presentarsi le condizioni ideali per realizzare i vostri desideri più profondi. Affrontate le sfide con determinazione, e se sorgesse qualche problema, affrontatelo con ironia. Un sorriso può essere un ottimo modo per superare le difficoltà. I single potrebbero iniziare a vedere i primi frutti delle loro scelte, ottenendo risultati positivi già da questo domenica. Nel lavoro, sfruttate la creatività per ottenere grandi risultati, ricordando che la soluzione a un problema potrebbe essere più vicina di quanto pensiate. È il momento di voltare pagina e guardare avanti, lasciandovi alle spalle i problemi del passato. Evitate di rimuginare su ricordi negativi o di meditare vendetta, e cercate di non lasciare che l'ansia avveleni il vostro benessere. Davanti a voi si apre un orizzonte splendido, con un 2024 che si prospetta molto intrigante e inizia con una splendida venere nel segno. Segno sagittario. La giornata di oggi si preannuncia impegnativa, con una risposta ridotta alle vostre azioni. Sul fronte sentimentale, i vostri piani subiranno cambiamenti a causa di una nuova situazione che potrebbe inizialmente causare ansia, ma che successivamente risveglierà la vostra curiosità. Affrontate con fiducia la vostra relazione di coppia, potreste scoprire soddisfazioni mai sperimentate prima, anche con il vostro partner di lunga data. Per mantenere una relazione serena, concentratevi sulla creazione spontanea di una connessione profonda. I single potrebbero incontrare ostacoli e tensioni che influenzano il loro umore, ma verso sera le cose si risolveranno, e la paura di non essere compresi potrebbe dissolversi comunicando apertamente con chi interessa. Finalmente avete l'opportunità di recuperare energia, prendere fiato e ricaricare le batterie dopo un periodo molto intenso sia dal punto di vista emotivo che delle molte cose da fare. Da settimane state riscoprendo la vostra anima più libera, selvaggia e intraprendente, superando i limiti e le preoccupazioni. Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla gelosia, sia in amore che nei rapporti professionali. Segno Capricorno La vostra inclinazione al controllo sta raggiungendo livelli elevati in questo periodo. Sebbene preferiate agire da soli, cercate di fidarvi di chi vi circonda. Delegare o ricevere aiuto non è un segno di debolezza, ma può essere un modo per arricchire la vostra prospettiva. Soprattutto, evitate di continuare a gestire tutto da soli, poiché potrebbe portare a un eccessivo stress. Questo è il momento di seminare per il futuro, non di fermarsi, in vista del 2024. I sentimenti sono al centro dell'attenzione. Le previsioni di oggi indicano un'armonia significativa con le persone intorno a voi, specialmente familiari e amici stretti. Sarà una giornata ideale per fare shopping in centro o organizzare un'uscita serale con un amico o un'amica. In amore, eventuali piccole discussioni potrebbero rafforzare l'attenzione verso il partner, portando benefici a entrambi. Per i single, l'atmosfera prenatalizia si presenta più invitante del solito. Per avere successo, cercate di seguire i vostri desideri per vivere momenti indimenticabili. Questa parte della settimana potrebbe rivelarsi decisiva per questioni lavorative interessanti. Segno acquario. È il momento di uscire e dedicarsi alla vita sociale. Potreste fare incontri interessanti, ma attenzione a non abbandonare la strada sicura per quella incerta. Se desiderate apportare cambiamenti nella vostra vita, sia in amore che sul lavoro, valutate attentamente le vostre opzioni per evitare decisioni affrettate. Le stelle per molti di voi predicono la possibilità di buone notizie nel campo lavorativo. L'idea vincente potrebbe essere dietro l'angolo, ascoltate la vostra fantasia, poiché vi fornirà materiale positivo da sviluppare nei settori che più vi interessano. Il periodo potrebbe finalmente dare il via a una sicurezza definitiva. Nel contempo, osate un po' di più con le persone che vi interessano. In campo sentimentale, approfittate della luna nel vostro segno per concedervi momenti di relax e superare eventuali tensioni. In serata, la tenerezza della persona amata vi scalderà il cuore, regalandovi intense emozioni e una comunicazione spontanea e sincera. I single potrebbero godere di una vita sociale movimentata, con hobby e interessi che non lasciano spazio al riposo. Date un'occhiata attorno, forse la vostra anima gemella si nasconde tra le persone che frequentate ogni giorno, pronta a essere scoperta. In questo periodo, incontri interessanti non sono esclusi. Segno pesci. L'oroscopo di oggi prevede l'arrivo di un periodo positivo per la quotidianità. Attendetevi un fine settimana ottimo, soprattutto per quanto riguarda gli affetti, l'amicizia e la famiglia. Sul fronte sentimentale, avrete favolose stelle che faciliteranno ogni iniziativa, rendendo la giornata splendida. La vitalità e la voglia di vivere non mancheranno, e potrete condividerle con il partner. Organizzate una gita o una piccola vacanza in una località affascinante, dove potrete rilassarvi e coccolarvi reciprocamente. I rapporti sentimentali vivranno un periodo sereno, di armonia e comprensione totale. I single, al risveglio, potrebbero avere le idee chiare e sentirsi determinati e sicuri, pronti ad affrontare le situazioni che ultimamente hanno creato problemi. Sul fronte lavorativo, potrebbe essere la vostra grande occasione. Dinamiche e configurazioni astrali creeranno un bel fermento, indipendentemente dalla vostra attività. Avete un grande bisogno di affetto in questo periodo, e le stelle favoriscono la dolcezza e la ricerca di soluzioni per affrontare situazioni complesse. Se ci sono discussioni in famiglia o con il partner, non scoraggiatevi, poiché si tratta solo di una fase temporanea.